Ok, allora faccio una cosa. Andiamo un pochettino più là, due passi dietro e noi iniziamo a ballare. Spengo le luci e ogni volta che tolgo la musica mi dico una cosa di persone. Vediamo se la balla meglio. La balla meglio di tutti la dava. Guarda come balla bene. Guarda, guarda. Voglio la mettere tua, come si fa? Che è successo? Tutto bene? Sì! Siamo tutti uniti? ok allora possiamo andare al centro della stanza dove ci sono ogni volta che tolgo la musica ci fermiamo in qualsiasi voglia ci troviamo se Ladybug corre mentre io tolgo la musica si ferma così con un piede in aria oppure tu col vestito in aria o con le corde